Dov'è che avete dormito quindi? In una tenda In una tenda? Sì Minchia bello però Piccioncini amorosi Che dino Io dopo il turno sto facendo tipo gli orari di mio nome Sì? Svegli prass Ieri sera, dopo ho messo due anni, mi sono messo lì così Casa nuova sul divano, con i biscotti La camomilla Alle 11 Brutto, brutto